E' stato messo in sicurezza lo scavo, attivato un bypass fognario provvisorio e riattivata la fornitura d'acqua. A renderlo noto, il comune di Napoli, a proposito della voragine, apertasi la scorsa notte in via del Cassano a Secondigliano, che tanta paura ha destato negli abitanti della zona. Appena cesserà l'alerta meteo, sarà ripristinata la fognatura superficiale in via definitiva. Per il rientro dei residenti nelle abitazioni si dovrà attendere la successiva verifica dell'assenza di danni. Sì, perché nelle ore successive al crollo la voragine si era ulteriormente allargata fino a raggiungere un diametro di 10 metri e di circa 8 di profondità. Enorme il lavoro della Polizia Municipale di Napoli, che ha individuato i residenti degli edifici a ridosso dell'ampia voragine per diffidarli dall'entrare negli immobili più a rischio, fino all'eliminazione del pericolo. Alla fine sono stati 20 gli alloggi sgomberati dalla protezione civile. Gli uomini di ABC hanno lavorato alacremente per ripristinare nel più breve tempo possibile l'erogazione idrica nella strada, sospesa dopo il cedimento. Ma ascoltiamo Vincenzo Tarallo, comandante dei vigili urbani di Secondigliano. Sgomberi, stesso ieri sera si è provveduto a sgomberare. In realtà questi palazzi che la protezione civile ha ritenuto opportuno evacuare, fare evacuare, già non ci sta più nessuno. L'unica cosa che per quanto riguarda alcune persone, come nel caso di Specie, stamattina è venuta una signora a richiederci la possibilità di andare a riprendersi il cane, perché ieri sera nell'immediatezza il cane non voleva andare via, noi ci siamo confrontati con la centrale operativa dei vigili del fuoco e loro ci hanno detto che bisogna fare una PEC, di modo che saranno stesso loro, man mano alle richieste, di andare a fare un recupero degli effetti personali.